Buonasera, io vorrei parlare a tutti gli italiani di quello che mi è successo il giorno sabato 28 luglio 2007 che ritornavo dal lavoro da San Giorgio di Piano e ritornando verso Bologna sono stato seguito e aggredito alla fine da uno che era uno scultore di nazionalità italiana perché mi voleva superare sulla destra e cominciava a lamentarsi, a urlare e all'altezza del semofo, quando il semofo è rosso si è fermato e continuava a insultarmi dicendomi deficiente, l'ho risposto deficiente sei tu che mi vuoi superare sulla destra che non si fa, mi fa la corsia è doppia, è ben vero che la corsia è doppia allora super e sei buono, allora mi fa voi africani mi state veramente sul c***o, dovete addirittura venire nel nostro paese ad insegnarsi come guidare la macchina, adesso ti faccio vedere, scende e parcheggia il motorino nelle strisce proprio all'altezza dello sbocco della tangenziale per casalecchio, scende dallo scooter, viene nella mia macchina perché il semaforo era rosso, viene nello sportello senza dire niente, cominciava a darmi dei colpi, dei pugni in faccia, cioè io volevo uscire dalla macchina però mi bloccava lo sportello e non c'era, non c'è stato nessuno, nessuna reazione nessuno mi ha dato soccorso, nessuno mi ha aiutato, quando sono uscito dalla macchina perché il semaforo alla fine è diventato verde, tutti classonavano per andare via ma non per fermarsi, per chiedermi se avessi bisogno o no, allora io vorrei parlare con tutto il mondo, con tutti gli italiani presenti, chiunque avessi visto anche quell'aggressione, che si faccia vedere, che si faccia sentire anche, veramente stiamo vivendo adesso a Bologna, Bologna è cambiata, io ci ho vissuto qua 10 anni, anche se poco, per qualche persona, anche se poco Bologna sta diventando veramente una foresta, peggio di una foresta, perché delle aggressioni dappertutto, che sia uomini, che siano delle donne, che sia omosessuali, che sia uno di colore diverso, allora vorrei chiedere a voi italiani, a voi, a tutto il mondo che vive qua a Bologna, di cercare di aprire l'occhio, anche gli avvocati della strada che si fanno anche vivere, che si fanno sentire, perché veramente continuando così finiremo a vivere la situazione che si vive ora come ora a Bronx in America e non credo che sia veramente il momento, perché noi qua, gli strani, tantissimi figli stanno crescendo e stanno anche sotto gli occhi, tutti le aggressioni, le ingiuri e le ingiustizie che loro padri e madri stanno vivendo. Grazie mille, vi ringrazio.